Un nuovo sportello di prossimità, dove si possono svolgere alcune delle pratiche relative al Tribunale Civile, che non comportano l'assistenza di un avvocato, è stato inaugurato oggi a Pinerolo. Il Ministro della Giustizia Bonafede, il Presidente della Regione Piemonte Chiamparino, il Presidente del Tribunale di Torino Terzi, la Sindaca della Città Metropolitana Chiara Pendino e il Sindaco di Pinerolo, Luca Salvai, hanno firmato il protocollo che sancisce la collaborazione fra gli enti. Sì, un ruolo importante che svolge Città Metropolitana, grazie al suo personale e alle risorse straordinarie che ci sono, di tutela e di vicinanza a chi è in difficoltà e quindi Città Metropolitana ha deciso di accogliere questa sfida dell'Ufficio di Prossimità che cerca di essere più vicino al cittadino e integrarsi anche con la giustizia il più possibile. Tutti concordi i rappresentanti delle istituzioni nel sottolineare l'importanza di far sentire la giustizia vicino ai cittadini e in particolare ai soggetti più fragili. Una delle attività più importanti dello sportello di prossimità sarà infatti avviare le pratiche per l'amministrazione di sostegno, quelle per i curatori speciali e per le autorizzazioni dei giudici tutelari. Lo sportello di prossimità di Pinerolo, così come quello già aperto a Moncaglieri, va ad affiancare la rete di sportelli che la Città Metropolitana di Torino ha avviato sul territorio negli ultimi dieci anni. La Città Metropolitana appunto da anni gestisce gli sportelli di pubblica tutela in diversi comuni dell'area metropolitana, abbiamo dei protocolli firmati. All'interno dell'attività di pubblica tutela viene ampliato il servizio da dare ai cittadini, quindi diventano degli sportelli di prossimità che si occuperanno di altri bisogni essenziali dei cittadini oltre alla pubblica tutela.